Questo video riguarda i migliori tre congelatori a pozzetto. Il vincitore della qualità nel nostro congelatore a pozzetto va a License FV85D4BW1. La porta può essere aperta da destra o da sinistra a seconda del layout della vostra cucina e della vostra preferenza. Grazie ai piedini regolabili la stabilità del vostro frigorifero è garantita anche su pavimenti non omogenee. Il cassetto Big Box permette di riporre in freezer alimenti di grandi dimensioni e garantisce grande spazio per tutti i tuoi cibi surgelati. La bassa romorosità garantisce un ambiente quieto e l'assenza di fastidiosi rumori di sottofondo. Puoi trovare il miglior prezzo direttamente qui sotto nella descrizione del video. L'alternativa è il Ayer HCE 103F. I prodotti Ayer si rivolgono agli amanti del design e della tecnologia. A chi ricerca soluzioni innovative con dettagli raffinati. A chi vuole affrontare le sfide quotidiane con stile e con la certezza di poter contare su un alleato affidabile, in ogni momento. Riconoscersi in Ayer significa essere pronti a rivoluzionare gli standard domestici per avere più tempo per le cose importanti. Il display elettronico permette un facile ed immediato controllo della temperatura grado per grado. Il tasto Fast Freeze permette di congelare nel minore tempo possibile alimenti freschi appena riposti nel congelatore. Grazie ai comodi cestelli in metallo, uno o due a seconda del modello, organizzare lo spazio del congelatore non è mai stato così semplice. Puoi trovare il miglior prezzo direttamente qui sotto nella descrizione del video. Il vincitore della Performance Premium nel congelatori a pozzetto è il Hisense FC 125 D4. L'aria fredda viene immesa dal basso verso l'alto formando una spirale che abbraccia tutta la superficie interna del freezer. Questo garantisce una temperatura omogenea in ogni angolo e una congelazione più rapida. In caso di mancanza di corrente, il freezer mantiene la temperatura interna al 18 di 0 gradi fino a 135 ore. Grazie all'utilizzo di cerniere ultra piatte in metallo e dall'elevata resistenza, la durata nel tempo e l'efficienza di apertura è assicurata anche negli utilizzi più frequenti. La porte dei congelatori Hisense è facile da aprire e rimane aperta da sola se lasciata in un angolo compreso tra i 30 e i 60 gradi. Per la migliore organizzazione dello spazio interno è possibile spostare o rimuovere i cesti interni del freezer. Facile pulizia dell'interno del freezer. Se ti piace il video apprezzeremmo un pollice in su o anche un commento.